Buon salve e benvenuti a questo riassunto, al riassunto dello Star Citizen Live del 2 agosto dedicato alle missioni. Sono partiti subito nel parlare dell'analytics, del sistema interno ai server della CIC che permette loro di analizzare appunto il comportamento dei player per ottenere ovviamente dei feedback e magari aiutare anche a risolvere eventuali bug o appunto problemi anche di prestazioni. L'hanno menzionato perché attualmente hanno fatto un passo avanti con questo sistema e riescono a osservare il comportamento dei giocatori in tempo reale e questo li aiuterà molto anche per le missioni per vedere dove eventualmente si trovi il bug o la problematica. È un elemento che non è tanto relativo alle missioni, magari non completamente, ma è comunque molto interessante. A questo punto sono passati all'argomento caldo, quello che viene richiesto ma è da parecchio tempo, ovvero le missioni condivisibili, quando arriveranno, non hanno dato una data ma sono stati parecchio sostivi al riguardo. In primis hanno fatto un design su quelle che dovevano essere le feature, gli elementi, per il sistema che avrebbe permesso loro appunto di condividere le missioni. A quel punto sono passate... ok, succede sempre cose strane quando inizio a registrare. Torniamo al discorso. A quel punto sono dovuti passare dalle parole ai fatti e si sono resi conto che anche con il supporto del team che si occupa del group system e con il supporto del team che si occupa dell'interfaccia, il sistema avrebbe richiesto non poco tempo per essere realizzato e, diciamocelo, la community vuole avere la possibilità di giocare le missioni con gli amici ora, non soon. Quindi ci sono dovuti dare da fare per consegnare qualcosa ai giocatori nel breve termine. Dopo diversi test, qualche giorno fa sono riusciti a avere un qualcosa che sembra molto promettente e che potrebbe funzionare. Hanno ordinato e analizzato le missioni disponibili e ritengono che dovrebbe essere abbastanza semplice rendere la maggior parte di queste missioni giocabili con il party. Ci sono delle eccezioni, come le scramble rates, dove il team ci deve mettere un po' la mano deve un po' sistemarle. Ma hanno detto che comunque sono sulla strada giusta e che renderanno le varie missioni giocabili per il party un po' alla volta. Quindi ne vedremo magari alcune la prossima patch, la 3.7 o forse la 3.8 non hanno dato date o che arriverà in questo momento. Però comunque prossimamente poi ne vedremo altre ancora, magari la patch successiva. Sostanzialmente il discorso che hanno fatto è questo. Dunque il design che avevamo fatto della condivisione delle missioni, quello che si è detto in precedenza non sarà portato a termine subito perché richiede molto tempo. Quindi vedremo magari all'inizio un'implementazione molto rudimentale, molto semplice della condivisione delle missioni. È un po' una tristezza, tra virgolette, però è comprensibile che vogliono dare all'utenza la possibilità di divertirsi facendo missioni insieme il prima possibile. A questo punto hanno parlato dell'OCS server side perché hanno dovuto sistemare le missioni con l'OCS server side. Tra l'altro hanno dichiarato che la differenza è come tra la notte e il giorno è un'altra cosa completamente rispetto a quello che si era prima, quindi miglioramenti delle prestazioni, miglioramenti in tutti i sensi con l'OCS server side. E questo miglioramento hanno dichiarato che è paragonabile a quello che c'era stato in passato con l'OCS client side. Tuttavia questo non toglie che debba rimaneggiare parte del lavoro fatto per adattare le missioni all'OCS server side. La quantità di missioni presenti è limitata per una questione di prudenza. Questo perché nel corso degli anni le fondamente sono cambiate e spesso e volentieri si sono ritrovate a rifare parte se non tutto il lavoro svolto. Per esempio, quando dalla 2.6.3 sono passati alla 3.0 e quindi dal vecchio sistema sono passati alla sussunzione, tutte le missioni le hanno dovuto rifare da zero praticamente. Tant'è che alcune si sono perse per strada, testa per esempio, e è per questo motivo che non vediamo tante missioni diverse attualmente. La paura è di doverle modificare o rifare tra una parte e l'altra e questa cosa rimarrà così probabilmente finché le fondamenta non saranno pronte, ovvero dovrebbe essere il server machine, quando implementeranno il server machine le fondamenta dovrebbero essere completate. Per testa hanno fatto nuovi dialoghi, ma è ancora nel limbo perché non hanno missioni adeguate, ma ritornerà. In futuro, su Star Citizen ci saranno missioni che avranno una loro storia, molto più narrative, un po' come la missione P.I. Wanted, per quanto questa sia molto semplice. In particolar modo sono provviste per i mission giver e intendono creare un concatenamento di missioni dedicate, magari. Non sono andati nello specifico, hanno ribadito però che attualmente sono impegnati nella struttura del gioco, nel sistema di reputazione e sono anche impegnati nel creare singoli elementi, ingredienti che comporanno le missioni future. Quelle che giochiamo ora sono sostanzialmente missioni archetipe dedicate a testare i singoli elementi. Hanno parlato di come le missioni narrative che portano a una location unica andranno magari a sbloccare altre missioni procedurali dedicate a quella location, in modo che questa non vada sprecata solo per una missione. P.I. Wanted verrà probabilmente stesa in futuro e funzionerà un po' da banco di prova per testare queste missioni narrative. Hanno parlato di queste modifiche di come vogliono per la sezione investigativa far sì che sembri per l'utente cercare un goviglio, una ragnatela e di, intendo anche aggiungere dei dilemmi morali che portano a influenzare la missione. Magari saremo contattati da persone disposte a parlare di più per far tacere queste voci scomode. Vi ricordo, se non conoscete la missione, la missione praticamente dovete investigare appunto su quello che è successo a Kovalets, la stazione di Kovalets che è vicino a Daymar, in orbita su Daymar, che appunto è stata devastata un incidente, una cosa del genere, e c'è un tentativo di incastro in mezzo che viene diramato mentre si cerca informazioni. Beh, intendo anche creare la versione in cui noi diciamo, in cui veniamo pagati per non rivelare le informazioni sostanzialmente, la sezione della missione. Intendo far sì che magari si possa selezionare appunto le informazioni da mandare in modo da poter scagionare un colpevole o incastrare un innocente in maniera più generale per queste missioni investigative anche. Sono molto emozionati per la tecnologia Building Blocks che il team dell'interfaccia sta realizzando perché permette loro di fare da sé i vari elementi a cui applicare uno stile grafico senza passare per il team dell'interfaccia. E permette loro anche di creare pannelli interagibili molto più facilmente e dallo stile molto più vario dinamico. Per esempio nella missione PI Wanted magari ci ritroveremo alla fine davanti alla schermata di un tablet o quello che è. E da un app per inviare mail potremo selezionare le informazioni da mandare decidendo se raccontare o maschereare la verità. In futuro potremo vedere dei mini game che potranno utilizzare questa tecnologia, per esempio l'hacking. Nello specifico, per l'hacking stanno facendo diversi prototipi su come farlo a livello di gameplay. Vogliono che sia una professione e quindi sia un sistema profondo, ma allo stesso tempo vogliono che sia possibile per chiunque a creare elementi pensati per essere super semplici. In poche parole, deve essere un sistema semplice da capire ma difficile da padroneggiare. Allo stesso tempo piacerebbe loro che i giocatori che stanno subendo un hacking possano controcreare a loro volta e quindi che funzioni come una sfida pvp in alcune situazioni. I chip che hanno recentemente introdotto in futuro potrebbero diventare un'alternativa per coloro che non vogliono fare hacking in nessun caso e quindi paghino semplicemente questo chip per hackerare i sistemi, ma Rai non eccessivamente complessi dove richiederebbe l'intervento umano, l'intervento del giocatore, insomma. Il mission team sta lavorando sulle missioni per le caverne. Probabilmente vedremo missioni FPS, missioni per trovare persone scomparse, forse missioni di mining, missioni per recuperare oggetti, cose così. Ci sono tuttavia delle difficoltà nell'assicurarsi che le caverne create proceduralmente siano adeguate per il tipo di missione proposto. Per esempio se mi verrà chiesto di recuperare un pacco, ma questo si trova al di là di un passaggio talmente stretto da costringermi a stendermi a terra per oltrepassarlo, la missione diventerà impossibile e questo non lo vogliono. Quindi devo stare attenti a questi casi. Missioni sui pianeti che magari non richiedono l'uso dei navi, è possibile che lo facciano, ma devono riuscire a contestualizzarle per non rendere forzate. In futuro, probabilmente nella 3.7, anzi quasi sicuramente nella 3.7, ci saranno dei kiosk per pagare le multe e forzatamente si potrà farlo solo lì. Quindi non verranno pagate automaticamente, come succede adesso nella 3.6, dovremo andare in un kiosk per pagare. Questi kiosk si potranno anche a creare, per non pagare, le multe e in futuro questi terminali da creare si troveranno anche nelle landing zone, ma attualmente per la mancanza di forze dell'ordine controllate dall'IA e per la presenza dell'armistin zone rimarranno in luoghi come Caria. Anche se attualmente non è previsto, tra l'altro in futuro si potrà pagare le multe direttamente dal Mobligast molto probabilmente. Il sistema di multe verrà risistemato, approfondito, continuando a non pagare le multe, la gestizione relativa, identificare il giocatore come criminale, come insolvente. Le prime volte che avremo fermati però con delle multe non pagate, le forze di sicurezza ci ricorderanno semplicemente di dover pagare appunto queste multe, in futuro implementeranno anche l'arresto e questo permetterà ancora di più di poter diversificare reati e situazioni. Il team non verrà l'ora di poter utilizzare sbagliati elementi di gameplay per fare missioni da elementi già in gioco come il mining e il commercio, ma anche roba che arriverà in futuro come il combattimento corpo a corpo o roba più tecnica come l'inventario fisico del giocatore, che è necessario anche per poter dare ricompense in oggetti al posto in aggiunta di UEC. Al team piacerebbe molto essere tecnicamente in grado di creare missioni che possono dare al giocatore un'armatura o un'arma come ricompensa, se non addirittura una nave. In futuro ci saranno mission giver secondari che daranno appunto missioni secondarie, magari uno di questi si troverà dentro una grotta e ci darà missioni relative alle grotte, sono mission giver minori sostanzialmente che potremo vedere in futuro. Il rapporto tra il mission team e il lore team è molto stretto, ci sono discussioni più volte a settimana, è il lore team che indica come dovrebbe essere una missione, la sua descrizione, la lore del mission giver, la lore delle aziende, e ci sono molti elementi che potrebbero essere errati ma non percepiti come tali in gioco, che può essere una texture, un elemento scritto in maniera non corretta, un obiettivo inserito nel punto sbagliato, l'inversione tra destinatario e emittente e destinatario, che questi eroi che potrebbero essere tra virgolette identificati esclusivamente dal lore team e non dal Q&A, perché il Q&A non è in grado di percepirli come errati, perché non hanno scritto loro le missioni e quindi sono cose che potrebbero sapere soltanto il lore team sostanzialmente. In futuro ci saranno missioni che potranno essere risolte in molteplici modi e con risultati differenti, anche a livello morale. Tra l'altro il capo del mission team in passato ha lavorato su Fable, quindi è abbastanza esperto in tal senso. Vogliono far sì che l'utenza possa creare le proprie missioni, attualmente sono impegnati però a creare gli ingredienti per queste missioni, questo perché per esempio in una missione uccidi Tiz e rubagli quella cosa, in realtà questa sarà composta da più ingredienti. Uccidere Tiz e un ingrediente, prendere la cosa un altro ingrediente, consegnare quella cosa, sarà un altro ingrediente. L'idea è che in futuro l'utente potrà selezionare e mettere in ordine i vari ingredienti per creare le proprie missioni. Missioni all'interno di relitti di navi come la 890 Jump o la Reclaimer arriveranno, vogliono sfruttare queste enormi navi perché sono enormi e possono essere delle location azzeccate per diverse missioni e aumentare la varietà, quindi vogliono farlo sicuramente. Capita spesso che non si riesca a completare una missione in game e questo può capitare per tanti motivi. Capita spesso, abbastanza spesso, che non si riesca a completare una missione e questo può capitare per tanti motivi, molti quali non relativi al mission team. Il punto è che le missioni si basano su tutto il gioco per funzionare e se parte di questo si rompe o non va come dovrebbe, finisce per colpire anche le missioni. Certo, poi ci sono missioni che non vanno per magari dei bug relativi al mission team, ma molto spesso non è questo il caso. Per esempio la scatola da consegnare che sprofonda nel vuoto, scompare, non è un bug relativo al mission team e loro hanno la richiesta perché le missioni siano buggate e hanno specificato questa cosa, perché non c'è tutto niente, stricolette, molte volte. E niente, e qui si conclude lo strasile del live, spero che sia stato abbastanza interessante, so che alcuni di voi volevano delle date, non ci sono, più o meno. Si sa che appunto si è capito che stanno andando avanti con le caverne, stanno andando avanti per fare missioni diversificate, per inglobare il mining e il commercio. Hanno detto che la tecnologia Building Blocks per l'interfaccia sarà qualcosa che rivoluzionerà appunto anche le missioni perché possono fare cose che prima non potevano fare. E vedremo, vedremo, gli Insider Star Citizen ci mostreranno altro le prossime settimane, ma per ora e per oggi abbiamo finito. Qui è Marco Sers e ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Ciao a tutti!